... Allora, oggi non di meno scende in piazza Milano come in altre piazze del mondo, in solidarietà agli Stati Uniti e in particolar modo alle persone munite di utero a cui è stato tolto l'ennesimo diritto negli Stati Uniti non hanno abolito gli aborti ma hanno abolito gli aborti sicuri, noi questo lo sappiamo bene siamo assolutamente solidali e con le compagne Lucumpagno negli Stati Uniti ma anche qua la situazione è abbastanza tragica in Italia la 194 viene a causa della clausola sull'obiezione di coscienza applicata deliberatamente da regione a regione ci sono regioni con più del 70-80% di obiettori di coscienza